Siamo convinti come giunta che è un segnale di partenza, di partenza certa verso una nuova struttura ospedaliera che Padova si merita, si merita perché non solo una struttura ospedaliera legata alla città di Padova, ma è legata alla regione del Veneto, è legata tutta quanta alla nazione. La giunta Zaia ha sempre lavorato a favore dell'ospedale di Padova, ci sono state delle congiunture negative durante il percorso, ma le supereremo come le abbiamo sempre superate in tutti quanti gli altri ambiti.